filo proprio del trasporto, dello stoccaggio e allora qui abbiamo qualcuno che si occupa di food service, quindi si occupa di movimentarle poi queste latte, queste buste, di farle arrivare alla ristorazione piccola o grande. Anche qui una riflessione, una votazione su quanto è stato detto da Goglio e anche quanto ha detto il professor Porretta. Chiedo a Malinverno di dire la sua da questo punto di vista. Buongiorno a tutti, nella nostra esperienza oggi c'è già sul mercato tutta una serie di prodotti con le buste. Quello che è importante secondo me verificare un po' il discorso di capire un attimino è il discorso nelle grandi città, nei grossi centri dove c'è meno spazio funziona di più il discorso della busta. Nelle altre parti tutto sommato si sta un po' girando un po' macchia di reopardo come performazione della busta, sta entrando pian piano nel panorama del pizzaiolo o comunque dello chef. Il problema è che forse oggi alla televisione ci sono degli chef ma nei ristoranti non ci sono più questi chef. È più facile che ci siano molti allievi a livello di ristorazione che chef reali, quindi più persone che si sono improvvisate nell'arco degli anni all'interno della ristorazione. Per cui rimangono probabilmente molto attaccati a quello che era il dopoguerra, quindi la latta, oddio come faccio quando apro una latta poi tappo col vetro, lo ritappo, lo richiudo, lo rimetto in frigor, cosa che con la busta non è percepito. La busta non è chiusa, se la apro la devo usare tutta e quindi si crea tutta una serie di problematiche che probabilmente è più di testa che di reale. Il corso di tipo culturale, un'abitudine. Il professor Proletta parlava del buon sapore legato anche al contatto con la latta. Sì, infatti insieme mi veniva in mente il latte. Allora io ogni tanto vado in una fattoria a bere del latte di mucca appena munto, come lo bevevo quando avevo dieci anni. È un sapore completamente diverso. Ho portato dalle persone che non hanno mai bevuto il latte di mucca e effettivamente mi hanno detto ma questo non è latte. E probabilmente oggi è vero che siamo talmente presi da un sapore diverso che il pomodoro è un'altra cosa, insomma. E rimaniamo attaccati molto a questo tipo di percezione. Quindi un gusto diverso porta la busta tendenzialmente dicono ma un gusto diverso. Poi che sia più buono o no è un'altra cosa ma è una disabitudine a quello che abbiamo mangiato fino a oggi. Poi vabbè per noi è estremamente importante il discorso del volume della busta. Quindi per il trasporto il discorso del container. Nei venti piedi ci sta il doppio della roba, insomma è decisamente nei nostri camion ci sta molta più merce di quanta ce ne sta con le latte. Ok, grazie. E proseguo. A questo punto chiedo invece al dottor Baldini qualche riflessione dal punto di vista di chi poi deve certificare i processi, eccetera. Quindi anche questo è un aspetto rilevante. Vediamo come gioca il packaging e le riflessioni che sono state fatte fino adesso. Grazie. Buongiorno a tutti. Io in Buro Veritas appunto vado nelle aziende non solo per gestire una parte commerciale ma sono proprio anche un auditor proprio sugli schemi food. Quindi diciamo che quando vado in azienda a vedere i loro sistemi di sicurezza igienica ci andiamo proprio a confrontare con varie problematiche. Nel packaging oggi i due fattori determinanti sono appunto la sicurezza che deve garantire il PEC e poi adesso ci stiamo muovendo anche sulla sostenibilità. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza basta che andiamo sul sito di EFSA e parecchie volte troviamo allerte legate a contaminanti derivati dal PEC. Non europei. Però in Italia non arriva solo PEC europeo. No, no, è corretto. assolutamente. No, no, è assolutamente corretto. Ne parlavamo proprio fuori con una persona che se pensiamo ai cinesi quanto in questo momento ci sta. Lo dicevamo fuori cinque minuti prima. Però è un problema. È un problema che le organizzazioni che i trasformatori devono avere ben presente. Purtroppo siamo anche in un momento in cui non è facile dire vabbè allora non compro più perché oggi si fa un po' fatica in un contesto un po' particolare. Bisogna cercare di alzare le garanzie. Sicuramente quello che vediamo noi è che anche gli organi di controllo quando vanno a fare le loro ispezioni non si fermano solo a guardare gli aspetti legati ai processi di trasformazione ma vogliono anche capire quali sono le garanzie che l'azienda sta cercando sul proprio fornitore proprio per evitare queste problematiche qua. Io sono anche convinto che comunque se noi ripercorriamo gli ultimi 20-25 anni oggi il prodotto che arriva sulla tavola del consumatore ha un livello di sicurezza decisamente più alto e continua ad aumentare e questo è sicuramente dovuto a tutto l'impegno della filiera. Oggi è fondamentale che tutta la filiera si impegni ognuno per il suo pezzetto a garantire questi aspetti qua. Noi vediamo che anche ci sono delle multinazionali leader nel settore food che stanno orientando le loro verifiche presso i loro fornitori anche su requisiti specifici legati al PEC. Ai loro fornitori di PEC chiedono anche delle certificazioni. Ce ne sono sempre di più anche di certificazioni volontarie legate a questi materiali a contatto con gli alimenti. La legislazione è sempre più pressante quindi io credo che quello che si sta muovendo è un movimento positivo. Cioè io credo che queste allerte piano piano andranno a diminuire. Poi vedremo se sarà solo perché non compreremo più da certi attori o se riusciremo anche ad alzare il livello di tutti gli altri competitor. Questo è essenzialmente quello che vediamo in giro. A livello di sostenibilità è un altro tema che incomincia a muoversi anche se c'è ancora un po' di titubanza, di incertezza. Cioè le aziende vogliono comunicare la loro sostenibilità. Devono ancora capire esattamente come comunicarla. Lo si diceva anche all'inizio. La sostenibilità è sicuramente un discorso di conto economico dell'azienda, sicuramente un discorso di responsabilità sociale ed ambientale e sicuramente anche un aspetto di comunicazione. Oggi che arriva prima su certi temi di sostenibilità avrà un vantaggio competitivo. Fin quando poi 30 anni fa si faceva la qualità, poi se è fatta la sicurezza igienica e pian piano arrivano tutti, adesso andremo a fare anche sostenibilità. Molte aziende, parlavamo di pomodoro, noi lavoriamo con organizzazioni con trasformazioni di pomodoro e incominciano a chiederci ma sull'LCA cosa facciamo? Quindi lo studio del ciclo di del prodotto, quanto impatta da quando nasce a quando muore? E' chiaro che ci va dietro anche il packaging perché anche il PEC ha un suo ciclo vita e anche questo andrà studiato e andrà a fare massa nel conteggio del prodotto. Quindi questi credo che siano i temi, il fermento che c'è proprio nel settore della trasformazione. Ok, grazie. Finirei il giro con il dottor Lironi chiedendo dal vostro punto di vista che cosa ci potete dire. Prego. Buongiorno, mi scuso dell'intervento. No, no, vabbè. Mi scuso dell'intervento. Facciamo, precisiamo, precisiamo. Al primo giro forse non era il caso di precisare. Però siccome sul tema del contatto con gli alimenti e sul tema, innanzitutto, io sono qui come presidente di G-Flex, G-Flex è l'associazione dei converter italiani, cioè dei trasformatori, dei produttori imballaggio flessibile italiana. Associati abbiamo 35 aziende, diciamo che è uno dei pochi comparti che negli ultimi anni, compreso l'anno scorso, è riuscito ancora a fare occupazione, grazie al fatto che il settore imballaggio flessibile italiano ha aumentato le esportazioni rispetto al prodotto interno. Quindi siamo riusciti a superare, arrivare al 52% di prodotto esportato rispetto al prodotto totale. Quindi vuol dire che le aziende italiane hanno know-how e fanno qualità, ma soprattutto sono aziende che, dal punto di vista certificativo, dal punto di vista del full contact, hanno sempre rispettato più di quello che addirittura in certi momenti, in certi anni la legge chiedeva. All'interno di G-Flex è persino un gruppo di lavoro che si occupa degli allerta e che quindi, quando ci sono degli allerta come quelli che venivano citati prima, mette al corrente gli associati di ciò che sta succedendo. Per cui, quando io dicevo non sono italiani, non sono europei, è perché, lo so, lo valutiamo ogni sei mesi, ogni due mesi, facciamo delle riunioni in cui portiamo l'andamento di questi allerta. Allerta che sicuramente sono preoccupanti, perché possiamo sempre sapere se quella barretta di cioccolata è stata prodotta al di qua o al di là del confine est-ovest. Lo possiamo sempre sapere? Possiamo sapere se quella barretta energetica è stata fatta in India oppure no? Non sempre. Non sempre. Basta un bel marchio e l'imballaggio che viene utilizzato per quella barretta non sempre è così chiaro dove arriva. G-Flex segue con attenzione perché ha al suo interno due comitati, uno che si occupa di marchi, di immagine e quello di cui volevo accennarvi qualcosa, che è quel libretto che trovate all'interno della documentazione che vi è stata fornita, quel libretto che si chiama IPAC, nel quale in qualche modo si riassumono un po' i concetti che ho sentito prima, essendo l'ultimo mi sembra inutile ripeterli, però trovate i vantaggi dell'imballaggio flessibile rispetto agli altri tipi di packaging, senza per questo sparare su chi fa molto più impatto ambientale di noi. Noi cerchiamo di farne poco, abbiamo anche il vantaggio di essere un imballo primario, quindi siamo in diretto contatto con l'alimento e quindi abbiamo sicuramente bisogno di meno packaging. IPAC nasce tre anni fa, tre anni e mezzo, forse quattro anni fa, con l'impatto dei rifiuti a Napoli, ve lo ricordate tutti, telegiornali, grandi messaggi sui giornali, il packaging inquina, il packaging riempie l'Italia di rifiuti, il packaging è quello che fa aumentare il prezzo del prodotto, addirittura su certi giornali leggevamo il 30% in più di costo grazie al packaging e forse abbiamo dovuto reagire. Allora abbiamo reagito, siamo andati a fare un piano di tre anni di comunicazione, il primo anno in maniera nascosta, diciamo, siamo andati da quei key opinion leader, da quei giornalisti che raccontavano queste cose sui giornali e abbiamo scoperto, ve la faccio breve, che alla fine ne capivano poco di packaging, ma veramente poco, che però queste notizie vendevano giornali e quindi abbiamo cercato di spiegarglielo. Poi siamo andati un po' sulle istituzioni, quindi abbiamo incontrato da Lega Ambiente, all'Unione dei Consumatori, un po' tutte queste realtà che anche loro in qualche modo, quando c'è il momento giusto, una botta al packaging, un colpo al packaging, lo danno un po' tutti, no? Tanto se si fa notizia perché no, no? Se la discarica e fanno notizia piuttosto che i rifiuti nelle strade di Napoli e sfruttiamole un po'. E anche lì abbiamo visto coinvolgendogli e spiegandogli proprio con dati alla mano che il packaging flessibile, primario, è un packaging che oltre a tutte le attività che svolge è anche essenziale per la conservazione, per il trasporto del prodotto e che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, abbiamo ridotto del 20% l'impatto del packaging come peso. Quindi siamo andati a ridurre totalmente l'impatto ambientale del packaging. Si vede poco, è vero? Si è visto poco. Anche perché poi la percezione del consumatore qual è? E qui mi allaccio, mi è piaciuto molto l'intervento iniziale. Qual è la percezione? Per mangiare un cioccolatino ci va bene una scatola grande, non so, 20 per 20. Per mangiare del pomodoro no, ci serve qualcosa che sia essenziale e che porti il prodotto ma col minor packaging possibile. Noi l'abbiamo fatto di darvi il minor packaging possibile sui prodotti primari. Però per altre cose l'impatto ambientale non lo vediamo. Se dobbiamo mangiare dei biscotti l'importante è che non siano rotti. Poi se ci sia un 30-40% in più di packaging fa niente. Potremmo dargli un impatto ancora più sostenibile con materiali bio, con materiali riciclati. Potremmo fare tante cose. Io anche in un intervento di qualche settimana fa al Pacchino avevo detto ma perché non ci confrontiamo magari in maniera più diretta noi produttori di alimenti? Perché è facile sparare su chi fa il packaging ma poi il packaging non lo facciamo noi, lo fanno i nostri clienti. E alla fine è l'end user che decide se ha successo o no questo packaging, spesso volentieri. E se per una scatola di cioccolatini abbiamo bisogno di uno scatola da 20 per 30 lo decide lui che quella è la scatola ideale. Noi potremmo dargli a quel produttore di bonbon probabilmente un materiale da 20 micron, 17 micron che è che fa lo stesso lavoro, conserva il prodotto e lo dà al cliente nel migliore dei modi anche con un food contact garantito. Perché poi tutto quel PVC che ci sta intorno io non so bene cosa sia, non lo voglio sapere. Però c'è una vaschetta sotto, c'è un bonbon ricoperto di alluminio stampato, laccato, cose di altro tipo. Fuori c'è una scatola, non si sa bene se poliestere, PVC o cos'altro. E tutto ciò col food contact, poi da dove arriva non si sa. Ecco, il flessibile garantisce altri livelli di contatto con gli alimenti. L'ambiente è la stessa cosa. Andando a fare queste riflessioni durante questo tipo di intervento ci siamo accorti poi che, perché il percorso finiva con l'end user, col consumatore finale. E ci siamo accorti, andando nelle scuole, perché per noi il consumatore finale abbiamo identificato come lo studente. Perché questo? Perché lo studente del liceo forse sarà quello che realmente capirà gli sforzi tecnologici, di innovazione sulle materie prime, sulle lacche, su tutto ciò che sta facendo il mondo del packaging, perché oggi la sensibilità o forse le normative non ci aiutano nemmeno nello sviluppo tecnologico. Molte volte il prezzo, come sempre, ciò che comanda è che blocca qualunque tipo di sviluppo. Blocca, non blocca, perché noi andiamo avanti, abbiamo aziende che fanno ricerca, certo sicuramente anche Goglio l'avete visto negli interventi di prima, aziende fanno ricerca. Molte volte poi si scontrano con lo sviluppo sul tema, soprattutto in momenti di crisi come questo, saving. Però questa ricerca rimane lì. Quindi abbiamo puntato sui giovani, sui ragazzi, per capire come la vedono loro. La sentono questa cosa? Beh, vi dico, la sentono. La sentono molto e alcune volte hanno anche proprio delle idee sul packaging di domani. È stata una bella sfida questa di fare questo lavoro e ci ha portato veramente molto. Alla fine i ragazzi ci hanno detto più prodotto, meno packaging sintetici, essenziali, banali. Chiamateli come volete, però è un tema che potrebbe farci lavorare per cinque anni. Grazie. Magari chiedo al professor Porretta una riflessione dopo questo giro di tavolo. Sono stati fatti... Stiamo riflettendo troppo, mi sa. Stiamo diventando degli specchi. Quello che ha detto il dottore è parzialmente vero. Io credo che occorra, per evitare la retorica oggi, perché si sta rischiando di dire cose ovvie, occorre formare questi ragazzi più che raccontargliela. Perché finché sui giornali leggiamo c'è lo fan, con tutti gli sforzi che le aziende fanno per cambiare molecole, polimeri e tutto quanto, poi sono svilite in un quotidiano col termine generico, oramai tra l'altro desueto, da decenni. Ecco, io credo che occorra formare e non solo farsi raccontare che ci vuole meno packaging sui prodotti. e raccontargli che non è vero, perché il packaging oggi viene vissuto come il più forte e inquinante. Tra l'altro vorrei chiudere anche la guerra banda stagnata e flessibile che forse ho anche innescato io oggi. Ma non era quello certamente l'obiettivo, anche perché l'idea era quella di creare delle nicchie, non tanto delle contrapposizioni così forti. La percezione qual è? Che sia il packaging il maggiore imputato dell'inquinamento. Quando compriamo, comprate una televisione, voi portate a caso un bellissimo schermo a 42 pollici e due metri cubi di immateriale da imballaggio, che vi imbarazza il cartone, e il primo imballaggio, il secondo, il terzo, il polistiroide, ce ne sono infine e non sapete mai dove mettere poi nelle varie disposizioni. E una penna USB, voi provate a prendere una penna USB che è così, a parte quella dell'agoglio che ci vuole un camion per portarsela, ma di solito i supporti USB sono piccoli, oggi sempre più piccoli, in qualche caso si perdono anche in tasca o nei meandri, ma se li compriamo l'imballaggio è infinito rispetto alla superficie mostrata dall'USB. Tra l'altro impenetrabile, voi provate a aprirla perché vi serve subito, ci vogliono bombe a mano o lanciafiamme per aprirle sull'istante. Ecco, lo stesso discorso, traslato sull'alimentare non è così ridicolo. Cioè, nella totalità dei casi non è esubero o abbondanza di imballaggio. Calcoli sono stati fatti, sono presenti in letteratura, di quanto costerebbe la perdita e quindi lo smaltimento degli imballaggi per contaminazioni microbiche seguite, appunto, che seguono un imballaggio non corretto, ecco, fa spostare il bilanciamento economico dalla parte dell'imballaggio. Cioè l'imballaggio non è uno spreco, un esubero, un eccesso, ma è a totale prevenzione di eventuali danni molto molto più grossi, molto superiore. Basta se no rifletto troppo. Grazie, continuiamo a riflettere. Magari se c'è qualche domanda specifica che viene direttamente dal pubblico, potrebbe essere, abbiamo il gelato qua, possiamo anche recuperarla immediatamente. Allora, per creare già imbarazzo, io credo che gli studenti debbano dare l'esempio, no? Dimostrare che sono stati bravi nel primo master che debbono anche dimostrare la loro preparazione. Quindi mi aspetto o ci aspettiamo almeno un intervento da parte loro. Sì, io, dalle cartoline, le cartoline portano delle domande un po' più specifiche sul sistema Ginova e sulle performance del sistema Ginova. Quindi in questo caso la risposta non può venire dalla tavola rotonda, ma può venire da... Eh? Risponderà per email. Rispondi per email. No, c'era un tema che riguardava la... Ma forse è lui che se l'è fatta questa domanda, secondo me. C'è il nome, eh? Sì, c'erano dei temi legati alla qualità del prodotto che viene conservato, alla chef life, alla riciclabilità o meno del materiale rispetto a quelle che sono le caratteristiche del vetro e del pet. Quindi, non so, se vuoi fare qualche... vuoi dire qualcosa per rispondere a queste domande? Eh, dai. Aspetta, vuoi che ti... No, vieni qua, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Allora, vi... Sì, funziona. Visto che si parlava della reciclabilità, no? Da recente sono stato invitato anche a un convegno dove proprio si parlava di reciclibilità, no? C'è stato un grossissimo dibattito dove c'era un fornitore, diciamo, di un materiale diciamo più o meno flessibile, no? Che ha detto, guarda, cioè, alla fine, quando parliamo di reciclare, anche se sia, diciamo, un materiale flessibile, si stiamo parlando di barriera, sappiamo cosa c'è a metà. Lascia stare se, diciamo, quello che abbiamo da una parte o dall'altra è un materiale plastico o è un cartone. E con questo l'ho detto già tutto, no? Allora, cioè, dobbiamo essere molto attenti a questa reciclibilità, perché alla fin fine abbiamo un foglio di alluminio. E sappiamo tutti che, diciamo, quello non è che, diciamo, è tutta plastica, c'è l'alluminio che in qualche modo si deve separare, no? Quello che è vero quando si parla, diciamo, di tutta questa filiera di sostenibilità, non si può confondere la sostenibilità con la reciclibilità, sono cose ben diverse, no? E là c'è una separazione, sia plastica sia cartone. C'è la barriera, che tra l'altro abbiamo parlato, diciamo, della qualità organolettica. Tra l'altro la banda stagnata è riciclabile al 100%, adesso è giusto per ribadire quanto non volevo. No, 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 guardi, cioè, anzi, li ringrazio il commento, perché voglio dire, ho detto che era un pessimo venditore e voglio dire, non si può vendere fumo, si devono dire le cose, diciamo, come sono. Non si può dire, no, guarda, l'imballaggio flessibile è riciclabile al 100%. No, perché, voglio dire, c'è gente che per fortuna, e grazie anche questi master, vengono educate e capiscono esattamente, eh? Questa è un... grazie. Caffè pagato. Grazie mille. No, sono cose che vanno dette per il suo nome, che diciamo è il mio paese. Non si può, non si può, non si deve confondere la gente, se no si fa una grossa confusione che diciamo giochi incontro nostro. Posso rispondere, visto stato io a parlare di riciclabilità. Oh, signor. Io parlavo di riciclabilità perché si possono utilizzare materiali con parti riciclate per fare imballaggi flessibili. E non mi dica che teoria perché lo dico che si possono fare. I costi sono superiori, però si possono fare. Oggi un film di poliestere a causa della situazione mondiale costa quanto un film di polipropilene, quindi neanche due euro al chilo. E un film riciclato di poliestere può costare tre, però si può fare, cioè si può inserire dei materiali riciclati all'interno di un packaging alimentare. Come lo fanno chi fa le bottiglie oggi con il 50% di prodotto riciclato. Questo si può fare. Io intendevo questo, poi che si possa riciclare un prodotto pluriaccoppiato con alluminio, questo sicuramente no, però si può creare energia. Si può creare energia e abbiamo esperienze personali, ce l'ho io, che in alcuni paesi come l'Olanda noi abbiamo, non abbiamo discariche, noi abbiamo termovalorizzatori che permettono di ottenere dal poliaccoppiato combustibile, gas combustibile e residui di alluminio. E questo non deve scandalizzare nessuno perché l'Olanda non penso che respiri molto peggio di quanto respiriamo noi. Noi magari in Italia mandiamo i nostri treni, e non è teoria, mandiamo i nostri treni in Germania per dare calore gratis e pagando per farli smaltire. Questa è la realtà. Allora, la plastica pluriaccoppiata, se per me riciclato vuol dire creare energia, è riciclaggio anche quello. Poi certo, se lo prendiamo nel suo concetto base, io faccio un imballaggio flessibile per pomodoro e lo riutilizzo dopo, questo no, questo assolutamente no, perché abbiamo anche tutti questi problemi. Però riciclare non è che deve essere inteso in maniera assoluta. Scusa, ma è una presentazione che va fatta perché è flessibile, ha dei vantaggi. Un altro tema che emergeva era legato alla... di questo discutevo anche con Malinverno nel break, rispetto alla cultura tipica del ristoratore, del pizzaiolo o comunque del ristoratore che usa la lattina di pomodoro. Uno è il tema della... la lattina da... la banda assegnata da un'idea di maggiore robustezza, di maggiore capacità di proteggere il prodotto, uno. E quindi magari chiedevo un elemento in più da questo punto di vista, c'è dalla capacità del imballaggio flessibile. E due, l'idea, l'idea è cultura, che appunto la lattina garantisca meglio la qualità di questo prodotto. In realtà ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato, ma forse anche su questo è una leggenda metropolitana, in realtà forse l'imballaggio flessibile anche per come viene usato poi lungo il processo di produzione di lavorazione, non solo salvaguarda di più, ma addirittura migliora certe caratteristiche organolettiche del prodotto. Chiedo qualche riflessione sulla robustezza e sulla capacità di essere integro e sul... e sulla... su questa leggenda metropolitana. Allora, come fanno i politici? Non rispondono mai alla domanda. Scusatemi. Cioè, in questo caso però... No, i politici ringraziano la domanda. Ringraziano? Sì, allora, non sono politico per quello. Eh, però deve dirci cos'è, perché non vende, non è politico, qualcosa... Eh, allora, non lo so, questo chiedete al dottor Voglio che ha fatto un grande errore, diciamo, chiedendomi di venire a dare una mano. Allora, cioè, premessa, diciamo, sono molto giovane quando mi vado a confrontare con tutti voi, diciamo, nel mondo del packaging. Ci sono dal 2005, vuol dire che sicuramente ho tanto di imparare ancora. E ho fatto delle esperienze, diciamo, sicuramente in altri paesi, un po' meno in Italia, dove anche ho trovato, per esempio, che quando si parlava di il flessibile e non flessibile, per esempio, ci sono dal punto di vista di utilizzo, cioè, ricomendazione sanitaria o leggi sanitarie, dove, diciamo, il contenuto in un ristorante va versato dentro di un altro contenitore. Immediatamente si apre e si mette là. Cioè, esperienze in Spagna, per esempio, questo è un tipo di pratica, una best practice che non esiste. No? Però, cioè, quando sono arrivato, mi hanno parlato tantissimo, diciamo, del pizzaiolo. No? Ho detto, cioè, io devo capire il mio pizzaiolo, che è un romano che si chiama Marco, ma è a Barcellona. Cioè, devo fare un test. Devo fare un test. Cioè, vado a trovare il mio pizzaiolo, venerdì, arrivo là, la prima cosa è che telefono Marco. Marco, mi fai una pizza? Sì. Benissimo. Allora, siamo arrivati, la prima cosa che ho fatto è dire, allora, mi fai vedere, sono d'accordo con lei, il suo piccolo magazzino. C'è un problema di spazio. No? Allora, dico, fammi vedere le tue latte. E mi guarda come si dice, scusa, io non uso delle latte, uso delle buste. No? Allora, cioè, ho rimasto proprio impressionato. No? E li ho chiesto, allora, perché usi questa busta? Perché, non so, magari la latta? Cioè, li ho fatto il test, in qualche modo, diciamo, piccola scala. Cioè, quello che mi ha detto, ha insistito di più, io aspettava, diciamo, le qualità organolettiche. Cioè, e lui girava, e continuava a girare con il discorso di un taglio. Cioè, perché? Perché si aveva fatto tanto male. Eh? Tanto male. Quello che mi ha detto, che è vero, che penso che qualcuna delle persone della tavola ha detto, penso che è stato lei. Cioè, questi sapori, percepito, la qualità percepita, per quello che, diciamo, l'utente finale, e che qualcuno ha fatto il confronto con il latte. È vero. Cioè, penso che con, 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 un po', diciamo, con l'evoluzione, diciamo, ci siamo allontanati dei veri sapori. E astruzziamo, diciamo, i sapori a quello che non sono proprio i sapori originali. E sono d'accordo con lei, diciamo, il fatto di andare, diciamo, da una lata che prende, magari, quel sapore metallico, a una busta, semplicemente uno può dire, non mi piace. Cioè, non perché non sia buono, semplicemente perché non è abituato. Allora, diciamo, magari, di quelle proprietà che uno è convinto che il flessibile, magari, dà il vantaggio, tu ti trovi che il mercato lo rifiuta. No? Per quello io insisteva, diciamo, in questo ascoltare. Perché tante volte, diciamo, ci sono dei concetti predefiniti, che sono, magari, nostri, che dopo, quando arriva al mercato finale, all'utente finale, dice, guarda, non mi va bene. E magari tu hai investito una barcata di soldi per fare uno sviluppo, che dopo dici, why? Cioè, questo prodotto, questo contenitore, questa tecnologia, non va bene, semplicemente perché? Perché magari non l'abbiamo chiesto. Cioè, questo è il punto di riflessione per me. Sa qual è il rischio del suo pizzaiolo, Mario? Marco, Marco. Marco. E che ci aggiunga dello zucchero, dell'acido citrico, del succo di limone, magari, nel... Non so se l'ha visto dietro. No. Il rischio è quello. A meno che in Spagna l'abitudine non sia radicata così come da noi, e da noi i pomodori, i derivati di pomodoro, sono veramente il prodotto top, anche a livello storico, per cui c'è una tradizione come in nessuna parte del mondo. E quindi magari in Spagna non è così. Li posso confessare una cosa? Quando faccio la passata di pomodoro a casa, vi aggiungo sempre un po' di zucchero. Ma sa perché? Ma io lo temevo, lo temevo. Eh, ma mi chiedo scuse, cioè i pomodori spagnoli, almeno di quella parte di Barcellona, diciamo... Ma non è vero, ma non è vero. No, sono acidi, lo devo... Ci abbiamo dei produttori di pomodoro che possono confermare che assolutamente non è vero, il pomodoro dell'Estremadur, ma cosa c'ha da invidiare al nostro? Io semplicemente, guardi, cioè l'ho fortuna di abitare un posto dove c'è il mercato dove vado a comprare il pomodoro al contadino e non arriva dalla terra di signori di Erossevilla, un pomodoro locale, che sicuramente non ha le ore di insolazione che hanno loro, che proprio sono quei pomodori che sono dolci, non hanno bisogno assolutamente... E poi perché lei la fa in casa, la passata di pomodoro, invece di comprare? Perché mi diverto. Mi chiedo scusa. Lui non mi pagherà il caffè. No, io non produco, per cui non condivido la scelta, no, però vorrei far parlare gli altri. Di solito monopolizzo la scena. Ormai non esiste più però il pizzaiolo, che prende la roba dalla lato, da chissà dove, e la mette dentro in altri contenitori per poi fare le cose. Ormai la legislazione italiana comunque impedisce di fare qualche tipo di attività. Quindi una delle cose che a noi vengono chieste, quando vado in giro, io vendo poco, ma quando vado in giro il discorso tra latta e busta è anche un po' quello, no? Io tengo la latta che comunque mi rimane sul bancone, con tutti i miei ingredienti, con la mia data di scadenza e quant'altro, la busta è un po' più flessibile. Quindi c'è anche questo aspetto sul discorso busta. Volevo capire se voi avete risolto qualche tipo di attività. Anzi, mi sorprende positivamente, in questo caso faccio il politico, le ringrazio che mi faccia questa domanda. Adesso però mi deve il diritto d'autore, non può cavarsela così. No, per una ragione molto semplice. Scusate perché userò una parola inglese che non mi piace, perché sicuramente c'è una parola bellissima italiana che lo definisce, ma ci sono le buste stand-up, che sono quelle che si tengono in piede. Voglio dire, ci sono delle buste che hanno una stabilità, come può avere una lata o un vassoio di vetro. Il problema è che sicuramente stiamo parlando di volumi magari grandi, parliamo di latte di 2, 3, 4 kg, e là, tornando al discorso, non sono magari così stabili. Ma il centro è sempre mobile. Ma però voglio dire, ci sono, diciamo, delle buste stand-up che si tengono perfettamente in piedi. Voglio dire, non... Andiamo un po' indietro al discorso culturale. Assolutamente. La domanda che incontriamo tutti i giorni... Dobbiamo fare ancora un po' di apostolato da questo punto di vista. Sì, però devo dire che noi, per esempio, per alcune materie prime trasferiamo il prodotto in gastronome. Non nel microfono, purtroppo. Per alcune materie prime noi trasferiamo il prodotto in gastronome che poi chiudiamo e buttiamo via l'imballo. Poi c'è da distinguere fra la data di scadenza del prodotto confezionato, chiuso, e una volta che lo apri quanto tempo ti dura. Allora, o lo sai dal fornitore che ti dice che evidentemente una volta aperto può durare il tuo tempo a una certa temperatura, o ti fai tu delle prove, che evidentemente non può farsi il pizzaiolo, non c'è dubbio, neanche al ristorante, che più delle volte, come dire, non le fanno e lo mantengono sino a quando non lo finiscono. Né più né meno come vengono mantenuti i panini in vetrina, nei bar mediamente, poi vengono rimessi fuori il giorno dopo con la plastichina. O se no ti fai delle prove serie e dici, bene, il mio panino può durare al massimo sei ore in vetrina, perché ha dentro il formaggio col prosciutto, con l'insalata. E a quel punto poi ti metti dei post-it, come per esempio noi abbiamo, dei inventi dei sistemi, per mettere data in cui apri l'imballo e data in cui andrei a eliminare quel prodotto. Cioè un conto e l'ascella è del prodotto chiuso, integro, e un conto e l'ascella è del prodotto aperto. L'altro punto che volevo puntualizzare, scusate il bisticcio, è legato, non sono molto d'accordo, un commento e un'affermazione, sul tema del food contact e dei controlli. Io non distinguerei in maniera così netta Grazie a tutti.